Eccolo il premio. Grazie Anna. Eccolo qui, le consegniamo l'originale a Pietro. Però adesso prego che all'amico Piero Martellino, premio della Chiariera 2010, teatro Serassi. Grazie. 52 anni di teatro ininterrotto. In questo momento il mio primo pensiero va ai miei primi insegnanti di teatro che mi hanno messo sulle tavole di palcoscenico con tanto amore e con tanto rigore. Il mio ultimo e unico pensiero in questo momento va ai miei ultimi allievi ai quali spero di trasmettere amore per il teatro e per questo mestiere. Ringrazio inoltre il fatto di essere premiato in una rassegna teatrale bergamasca, teatro con il quale sinceramente non ho avuto molte frequentazioni. Però con la commedia dell'arte, prima come Arlecchino, poi come Zanni, credo di aver portato sul palcoscenici d'Italia e d'Europa la nostra bergamaschità. Grazie ai miei amici del Ducato di Piazza Pontida, sono all'inizio di cui vi onoro di appartenere. Ringrazio Anna Barbieri che è anche una cugina acquistata come lo è stato Brasca. E' veramente un premio particolare e graditissimo. Raffaello e sua moglie che hanno avanzato di veri premiarmi. E se è vero, come è vero, che per un attore, per un uomo di teatro, il pubblico è importante, questo premio alla carriera lo dedico a tutti voi insieme.